ciao a tutti amici dexiamatur.com e ben ritrovato ad un nuovo video unboxing in questo oggi abbiamo ricevuto in redazione la nuovissima logitech g410 atlas spectrum tassiera da gaming che adotta appunto come vediamo qui in basso a destra esclusivi switch meccanici prodotti esclusivamente per logitech romer g troviamo appunto nella parte frontale della confezione l'immaggio illustrativa il modello della tassiera ad altre informazioni tra cui layout di digitazione utilizzato per questa tassiera nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative circa le caratteristiche principali della tassiera tra cui anche la retro illuminazione rgb 16,8 milioni di colore e ovviamente le specifiche le caratteristiche scusate sono riportate in diverse lingue nella parte sinistra all'interno della confezione troviamo un semplice opuscolo della setup guide per la tastiera quindi ci verrà detto come scaricare il software della logitech e altre solide informazioni e infine troviamo semplicemente la tastiera non è presente alcun altro bundle diciamo insieme alla tastiera design abbastanza classico colorazione interamente nera formato TKL quindi una tastiera molto compatta e ideale specialmente per coloro che viaggiano molto per eventuali tornei o comunque per coloro che amano le tastiere compatte colorazione interamente nera quindi molto elegante di per sé le atto di digitazione inglese come abbiamo detto nella parte alta troviamo i tasti multimediali che saranno attivabili tramite la funzione FN più il tasto dei nostri interessi questi vanno da F9 a F12 classi per fare lo stop della traccia avanti indietro la traccia pausa o play della traccia mentre print skin scroll lock e pause per aumentare e diminuire il volume o per mutare la traccia sonora nella parte sinistra troviamo nella parte bassa il beige con scritto G410 riferimento al modello questa piccola zagoma con un foro nell'angolo sinistro design abbastanza squadrato per la parte sinistra del tastiera mentre più classico in quello di destra sempre in alto troviamo il logo G della serie gaming di Logitech nella parte centrale troviamo la scritta ARX che è riferita alla Dog Ink Control per utilizzare un eventuale dispositivo Android e quindi interfacciarci con le funzioni avanzate della tastiera tramite il smartphone o il tablet troviamo anche e sempre nella parte di destra sopra i tasti multimediali la funzione per attivare o disattivare la retronominazione è quella per la game mode scusate per disattivare il tasto Windows in gioco e quindi evitare di ritornare su desktop per metto accidentalmente il tasto Windows come possiamo vedere i caps relativi alle freccette direzionali la parte destra e i classici tasti WASD sono caratterizzati dal classico design che abbiamo visto anche con l'Aureon Spark ovviamente la retronominazione RGB aumenterà di molto l'effetto visivo di questi tasti che comunque sono abbastanza gradevoli alla digitazione e al tatto infatti i Romer G che sono questi nuovi tasti diciamo ibridi che vanno da una sorta di membrana a una sorta di switch meccanico hanno una corsa inferiore rispetto a un classico switch meccanico infatti si attestiamo a circa 1,5 mm ed hanno anche un feeling di digitazione a meno in questo caso simile a quello dei CRMX Red o dei Kylo Red o qualunque altro switch meccanico di colore rosso come possiamo sentire non hanno la particolarità di fare molto rumore come è solito dei classici tasti meccanici e quindi sicuramente sarà un punto a favore per una sessione di gioco in notturna girando la tastiera troviamo un design sempre diciamo spaziale passateci il termine composto dai vari parallelepipedi queste forme tutte geometriche classici piedini in gomma nella parte inferiore e in quella superiore oltre che questi piedini in plastica che ci permetteranno di alzare un minimo la tastiera e quindi agevolare sia la scrittura che il gioco il clavo usb non è rivestito in treccia di tessuto mentre il connettore come anche il connettore usb non è placato in oro per questo è tutto vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardure.com trovate sempre giù in descrizione il link alla recensione completa e il link amazon per eventualmente comprare questa tastiera con questo è tutto un saluto staff un saluto staff un saluto strutto un saluto Grazie a tutti.